Le macerie di un risultato di una guerra come quella che ha comportato la distruzione di Kabul e della scuola di musica di Kabul sono molto simili a quelle che ho visto recentemente a Camerino, nel centro storico di Camerino. E quindi quest'idea di ricostruire una scuola di musica a Camerino, grazie al contributo dei nostri concittadini con una raccolta fondi importante, che è un'idea che è venuta dalla professoressa Cucè, trova un fil rouge che è quello della distruzione della quale risorgono delle scuole di musica. Ricostruire una scuola di musica ridotta in macerie per far così rinascere un segnale di speranza, è questo il fil rouge che lega il nome di Kabul a quello di Camerino. Partono così da Rezzo quattro eventi culturali per promuovere la raccolta fondi da destinare alla ricostruzione dell'istituto musicale Nelio Biondi. L'evento clou è in programma domenica 4 febbraio, con l'esibizione nell'auditorium della Rezzo Fiere Congressi della Filarmonica del Teatro Reggio di Torino. Ci siamo mossi per dire facciamo qualcosa per questi ragazzi che hanno bisogno di nuovo di una scuola. E quindi abbiamo mosso quelli che sono stati i protagonisti nella prima parte, cioè l'orchestra del Teatro Reggio, che ci aveva seguito a Kabul. Ma non solo loro, come dicevo prima, stanno aderendo al progetto Altissime Personalità del Mondo della Musica per darci una mano in questo percorso. A far da cornice all'evento la mostra del fotoreporter Paolo Siccardi, che in una serie di scatti suggestivi ha documentato la situazione di Camerino all'indomani del sisma. A seguire la cena di gala organizzata dal Lions Club Arezzo Chimera e a conclusione la mostra d'arte contemporanea, che sarà allestita con le opere donate da artisti provenienti dalle 20 regioni d'Italia, che saranno poi battute all'asta. Sicuramente questa iniziativa fa sì che quello per cui avevamo messo in gioco e avevamo puntato, che era il Palazzo della Musica, abbia una rinascita anche grazie alla città di Arezzo, grazie all'amministrazione comunale e grazie alla professoressa Rita, che veramente ci sta dando una speranza e un'opportunità importante.